Un arresto per spaccio di stupefacenti, denunce per atti o sceni in luogo pubblico ed una decina di giovani segnalati al prefetto di Pesaro per uso di stupefacenti ed ubriachezza manifesta. Sono questi i numeri dei controlli di routine attuati dai carabinieri della compagnia di Fano sulla spiaggia dell'Arzilla lungo tutto il tratto che si snoda dal baretto fino allo del Mara per contrastare lo spaccio di stupefacenti durante la movida del sabato sera. Numerose sono state le segnalazioni arrivate ai carabinieri da parte di genitori preoccupati per le condizioni dei propri figli che di ritorno da una normale serata trascorsa a Lido all'Arzilla di Fano mostravano pupille dilatate, eccessiva euforia e aggressività alternata a stati di torpore. Sabato sera così è stato dato il via al controllo terminato alle prime luci dell'alba e che ha portato all'arresto di un 24enne romano senza lavoro e con piccoli precedenti per droga sorpreso mentre spacciava a due ventenni di Fabriano due dosi di hashish. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di altre decine di dosi di hashish a volte nella carta stagnola e di un mazzetto di banconote tutte di piccolo taglio probabilmente provento dei precedenti spacci. Dopo due notti trascorse nelle camere di sicurezza dei carabinieri il giovane romano è stato giudicato con rito per direttissima dal giudice del tribunale di Pesaro che oltre a convalidare l'arresto lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e lo ha rimesso in libertà essendo incensurato. Poco prima era stato però sottoposto a controllo un altro pusher albanese di cocaina ben conosciuto dai carabinieri che stranamente però è stato trovato scarico ovvero senza dosi addosso. Da un rapido controllo del cellulare però che squillava in continuazione si è scoperto immediatamente il motivo. Sull'applicazione Whatsapp di un gruppo denominato Viaggiare Informati decine di aderenti si scambiavano messaggi con le coordinate geografiche dei punti dove erano in atto i posti di controllo e in ultimo l'inquietante messaggio tanti 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 borghesi tra baretto e chalet. È evidente a questo punto che i tanti aderenti erano di fatto diventati fiancheggiatori di delinquenti dando più o meno consapevolmente un enorme vantaggio a pushere ladri. Poco prima era stato attraversato lo stretto ponte pedonale che mette in comunicazione il Lido all'Arzilla dove un quarantenne distinto professionista della provincia di Forlì e Cesena è stato sorpreso mentre completamente ubriaco urinava a favore del passeggio serale nel vano tentativo di indirizzare il getto sul fiume Arzilla. Durante il controllo nei rari momenti di lucidità candidamente affermava di essere stato costretto dal deplorevole azione per la mancanza di bagni. L'uomo è stato recuperato dagli amici con in tasca però un deferimento in stato di libertà per atti osceni e una contravvenzione per ubriachezza molesta. Impressionante invece il numero di assuntori di sostanze stupefacenti sorpresi a passeggiare mentre fumavano tranquillamente uno spinello o nel mezzo del vialetto dopo aver preparato le righe di cocaina sullo smartphone, sniffare la sostanza alternandosi tra amici. Il tutto sotto gli occhi dei militari ai quali in un'occasione è stato spavaldamente offerto anche il fumo.